Team Altamura contro Audace e Cerignola, ma non solo. Propone altre due vicende tutte pugliesi. Il dodicesimo turno di Serie D c'è un derby della provincia di Bari, quello tra Gravina e Bitonto, c'è anche Nardò Taranto ad impreziosire una giornata ricca di interesse per le nostre rappresentanti impegnate nel Girone H. Tra gli incroci più intriganti della domenica c'è sicuramente quello che si giocherà sul sintetico del vicino di Gravina a partire dalle ore 16.30 tra i Murgiani e il Bitonto. Gara fondamentale per entrambe. I padroni di casa devono trovare necessariamente continuità di risultati per immaginare di rientrare nei giochi playoff. Il quinto posto è distante al momento quattro punti. I neroverdi di Massimo Pizzulli hanno la necessità invece di vincere di più. Lo hanno fatto quattro volte in esibizioni di campionato per inserirsi nei contesti più ambiziosi del raggruppamento. La posta in palio dunque peserà parecchio. Idem nel derby in programma alle 14.30 al Giovanni Paolo II tra Nardò e Taranto rispettivamente. Quarta e terza forza del Girone. Entrambe sono reduci da pareggi differenti però per peso specifico. Ottimo quello ottenuto dal Granata a Bitonto per il quarto risultato utile di fila. Tre vittorie e una X. Pieno di rimpianti invece quello interno degli Ionici in casa con la Gerbison. Ha da riscattare la battuta d'arresto di Nola invece il Fasano che ospita al Vito Curlo sempre alle 14.30 il Savoia. La matricola allenata da Giuseppe La Terza poi tornerà in campo già mercoledì prossimo e affronterà sempre in casa il Taranto nel recupero del match interrotto lo scorso 10 novembre in chiusura di prima frazione sul punteggio di 1-0 per gli Ionici a causa dell'infortunio rimediato dal direttore di gara. Si giocherà regolarmente allo stadio Vincenzo Presti di Gela ma senza pubblico sugli spalti la sfida tra i siciliani e il Bari dopo che la sede di gara è rimasta incerta per più giorni durante questa settimana. Ripristinato regolarmente infatti il rettangolo di gioco dopo gli atti vandalici commessi da ignoti nella notte tra mercoledì e giovedì. I biancorossi di Gianni Cornachini arrivano alla sfida da imbattuti e già con un buon margine di vantaggio sulle inseguitrici.